Agliardi in porta Noce, Cioffi, Benassi e Valeri in difesa, Campagna e De Feudis a centrocampo, Tortori, Fortunato e Alessandro alle spalle appunto del rientrante Gianni Ricciardo, lo schema è il 4-2-3-1, si può cominciare, è cominciata Cesena, Vastese, il dessert della sedicesima giornata di campionato, Giampaolo, solo omonimo dell'ex tecnico del Cesena, ancora Giampaolo, se ne va lui, quasi al limite, il destro! Tortori, se ne va lui, slalom speciale di Tortori, bravissimo, dentro l'area Tortori, all'indietro, poi De Feudis con il destro! Intanto copio di testa di Ricciardo, molto bene, ha aperto le sue 4 ante, Alessandro, punta De Meio, cerca il cross, Ricciardo, poi gran parata di Selva, altro miracolo del portiere! Intanto Tortori, lato corto dell'area di rigore, il cross, il copio di testa di Del Duca, poi d'Alessandro, allora De Feudis, allarga Alessandro, dentro l'area di rigore, cerca il cross, basso, l'uscita del portiere! Poi Tortori, posizione regolare, ancora Tortori, sinistro! Fortunato, 30 metri, ancora Fortunato, allarga bene, tocco morbido, Tortori, al limite, cross sul secondo palo, Valeri lascia spilare, allora Alessandro, posizione regolare, Alessandro il destro sul primo palo, qui un po' egoista, infatti Ricciardo, lo avete visto, non ha preso benissimo il tentativo del compagno! E' pronto il direttore di gara, soprattutto sono pronti Fortunato e Alessandro, fischia Cavaliere! Va Alessandro con il destro, la deviazione di Selva, altro tiro in porta, interessante per il Cesena, andrà Michael Benassi con il destro! E' pronto lui, cerca il destro, Benassi, palo ribalzo, Ricciardo! Gianni Ricciardo ritrova, subito il gol, si aprono le ali sotto la curva mare, paperona di Selva, 1-0 Cesena! Rivediamo, insidiosa, la punizione di Benassi, impietosa invece, l'immagine che immortala il portiere Selva, ancora Danilo, contro 1, poi il cross, Ricciardo! Oh! Il bis di Gianni Ricciardo, ancora, questa volta di testa, tutto facile per lui, tutto facile per il Cesena, 2-0! Con questo fanno 10, rivediamo, cioccolatino sontuoso sulla testa di Ricciardo, andiamo a rivederlo anche dal basso, e beh, Palestini, in verticale per Leonetti, bravissimo, ottimo lo scarico, Fiore, quasi al limite, se ne va lui, e Mancino, Fiore con il sinistro, Agliardi! Poi da Alessandro con il destro, ancora Agliardi! Poi Valeri, poi da Alessandro, poi ancora Agliardi, c'è fallo, ai danni di Valeri, doppio miracolo! Barriera piuttosto corposa da parte del Cesena, proprio al limite dell'area, Fischio arriva in questo istante, va Fiore con il sinistro, Agliardi, traversa e gol! Si riapre la partita, rivediamo, traversa, schiena di Agliardi, se la palla non è entrata è autogol, sfortunato di Federico Agliardi! Intanto Fortunato perde da Alessandro il pallone, ancora Fortunato per Alessandro, dentro l'area, il cross, Tortori, palo incredibile per Fortunato! Fortunato, c'è sempre, Jacopo Fortunato sulle seconde palle, 3-1! Con le mani dentro l'area, liberissimo, Alessandro il cross, poi Tortori di testa, allora Fortunato! Con il destro, gran parata di selva, paratona! Fortunato si ricomincia, ora, in questo istante, Capellupo, riversa il pallone subito a tre quarti del Cesena, il Fiore, ottimo il suggerimento per De Meio, dentro al campo il terzino della Vastese, poi da Alessandro, Sciba, cerca il sinistro, lato corto dell'area di rigore, il cross, basso, attenzione Fiore, deviazione! Palla fuori! Ancora Fiore, l'uno contro uno con Benassi, lato corto dell'area di rigore, il doppio passo, il cross, dentro l'area, colpa di testa, Agliardi! Ma il Cesena non è sceso in campo, ancora Agliardi! Fortunato, apre da quest'altra parte, ottimo il suggerimento per Alessandro, va in uno contro uno con De Meio, ancora Alessandro al limite, Alessandro il destro, sbaglia tutto, troppo egoista! Stivaletta, dalla parte opposta, è libero Palumbo, centralmente c'è Sciba, qui cerca il tiro, attenzione, c'è fuorigioco! Alessandro, punta De Meio, ottimo il suggerimento dentro l'area, Tortori, Tortori con il destro, Tortori! 4-1 Cesena, eccolo qua, bentornato, Loris Tortori! Bravissimo Tortori a farsi trovare tra le linee, a mettere il pallone sul piede preferito, rivediamo, cerca il destro, lo trova, deviazione di selva, non un destro irresistibile, ma comunque un destro nell'angolino, 4-1 Cesena! Non certo una novità, non un new entry in questo campionato di D, intanto qui cross, dalle parti di Sciba, la palla resta lì, poi Leonetti con il sinistro, Leonetti! Ancora Campagna, quasi a 30 metri, Campagna cerca il tiro, forse anche deviazione di selva, non è così, pronto l'arbitro a fischiare! 1-2-3, gioco, partita incontro, Cesena 4, Vastese 1, Cesena che sale a meno 1 dal Matelica!